Le colline del Prosecco di Conegliano e Valdobiadene inserite nel patrimonio dell'umanità dall'UNESCO ospitano la 64esima edizione della Piva Junior Day, una intera giornata di ciclismo allestita con la consueta passione della Cicol San Martino per fare spazio ad allievi e juniores. Con le nostre immagini siamo nella mattinata che ha fatto da sfondo alla sfida riservata agli allievi valida anche per il 17esimo Gran Premio Proloco di Col San Martino. 160 gli atleti che si sono schierati ai nastri di partenza e tra loro con il numero 1, il neocampione italiano della categoria su strada, Edoardo Caresia della Forti e Veloci di Trento. Prima del via anche un minuto di silenzio, ricordo di Mauro Basso, figura storica del territorio che si è sempre spesa per il sociale e per il mondo dello sport, quindi l'abbassamento della bandiera a scacchi che ha visto in prima fila il presidente della Cicol San Martino, Mario De Rosso, accompagnato dall'assessore alla pubblica istruzione politiche sociali e sanità del comune di Farra di Soligo, Silvia Mazzocco. Primi chilometri di gara con il gruppo che sfila compatto tra le prime fila della Plotone, la maglia tricolore sfoggiata con grande orgoglio da Edoardo Caresia che andiamo ad ascoltare ai nostri microfoni. A Col San Martino è ormai tradizione avere al via il campione italiano, prima uscita stagionale per Caresia, un titolo che ti ha premiato dopo un avvio di stagione davvero intenso. Sì, sono molto contento di onorare la maglia proprio qua e appunto cercherò di onorarla al meglio. Senti, come sono trascorsi questi sette giorni dalla vittoria del campionato italiano? Intanto hai realizzato l'impresa che sei riuscito a compiere? Sì, ci ho messo un po' a realizzare, sono stati sette giorni molto intensi e molto belli. Sono 71 i chilometri da compiere per gli allievi suddivisi in sei tornate da 12 chilometri ciascuna. Intanto con questa ripresa aerea possiamo godere delle bellezze del territorio delle colline del Prosecco con il Plotone che va a transitare in lunga fila indiana per l'abitato di Follo. Una gara, questa riservata agli allievi inserita nel programma della Piva Junior Day che può vantare un albo d'oro di grandissimo richiamo. Infatti sono tanti gli atleti di primissimo piano che si sono imposti su questo traguardo proprio nella prova riservata agli allievi, dimostrando qui il proprio valore poi confermato anche nelle categorie superiori. È il caso giusto per citare i più famosi di Samuele Battistella, campione del mondo under 23 nonché oggi professionista con la Stana che si è imposto su questo traguardo nel 2013 e poi ancora Elia Andreaus nel 2021, Davide Stella lo scorso anno per i colori della Gottardo Giochi Caneva. Con le nostre immagini siamo già nel corso della quarta delle sei tornate in programma quando ad allungare lungo lo strappo di Guia è il dorsale 117. Si tratta del bellunese Martin Gris della termopiave Valcavasia Junior Team che riesce a guadagnare una ventina di secondi su un plotone sempre molto attento. Infatti il gruppo che si è presentato così folto ai nastri di partenza ha percorso le prime tornate senza lasciare spazio agli attaccanti. Un continuo tira e molla, quello a cui si è assistito lungo i saliscendi del circuito di Col San Martino che però non ha permesso a nessuno di fare veramente la differenza. Avete visto viene raggiunto anche Martin Gris quando ci si lancia in discesa ed è proprio Edoardo Caresia della Forti e Veloci con la maglia tricolore a tentare il forcing. Quando si rientra da Colbertaldo però ad allungare è una maglia della Borgomolino Vigna Fiorita. Il dorsale 75 si tratta di Marco Sartori che va così a transitare al suono della campana con una quindicina di secondi sul gruppo. Un gruppo che viene preceduto da una maglia della Sacilese e poi vedete una ottantina ancora gli atleti pronti per giocarsi il tutto per tutto in questi ultimi 12 chilometri del Gran Premio Proloco Col San Martino. Una prova davvero spettacolare quella che vede Sartori raggiunto dalla dorsale 24, vale a dire Simone Roveretto della Sacilese. Il ragazzo in maglia bianco-rossa prosegue tutto solo e tenta di andarsene quando siamo alle pendici della salita di Guia che è quella che caratterizza proprio questo circuito. Un circuito che è inserito anche all'interno della Trofeo Piva, gara internazionale classica di primavera riservata agli under 23. All'inseguimento di Roveretto si portano i portacolori della Sandrigo Bike che tentano di tenere alto il ritmo. Il loro lavoro è molto prezioso perché non consente alla battistrada di guadagnare il terreno che gli servirebbe per superare indenne l'ultima salita di giornata ed è così che il plotone si riporta anche sulle ruote di Roveretto. Il primo a raggiungerlo e a superarlo è Daniele Forlina, il ragazzo della SC Padovani che si è già messo in luce in diverse occasioni quest'anno. Prova anche lui ad andarsene ma anche per lui non è giornata. E allora quando siamo negli ultimi metri di salita ad allungare nuovamente è una maglia della Sacilese ma subito dopo ci pensa Alessio Magagnotti della Forti e Veloci, lui che è campione italiano della cronometro individuale, deluso dalla prova tricolore sfortunata per lui con diversi incidenti meccanici e cadute che lo hanno rallentato, tenta di andarsene tutto solo. Sulla ruota di Magagnotti resiste solo Lorenzo Dalle Crode della Sacilese, il ragazzo friulano dà il cambio anche al Trentino, si forma così una coppia decisamente interessante. Quando siamo già negli ultimi chilometri di gara ma su questi due attaccanti rientrerà nuovamente il gruppo degli inseguitori. Un plotoncino formato ormai da una quarantina di unità che andranno a giocarsi il tutto per tutto sulle strade di Col San Martino. Ancora una volta tra le più combattive le maglie della San Drigo Bike e quelle della Postumia 73 che tentano gli ultimi colpi per precedere un arrivo a ranghi compatti ma poi a prendere in mano la situazione sono nuovamente i portacolori della Forti e Veloci. Una formazione che quest'anno può contare su un team di allievi decisamente competitivo su tutti i terreni e vedete sono proprio le maglie rosso, bianco e blu della formazione Trentina a guidare le operazioni in vista dello sprint telecamere fisse con Edoardo Caresia il campione italiano che va a lanciare uno sprint straordinario per il compagno di squadra Alessio Magagnotti ed è proprio il portacolori della Forti e Veloci che va ad imporsi precedendo sulla linea d'arrivo Lorenzo Campagnolo e Luca Vacker della Borgomolino Vigna Fiorita. Seguono Riccardo Darius, Nicola Padovan, Simone Granzotto, Marco Andrea Pierotto, Emanuele Menossi, Pietro Cao e Alessandro Zanin. Alessio Magagnotti fa 13 a Colsa Martino, un'altra volata imperiosa da tua oggi, è stata una giornata calda con un percorso impegnativo ma alla fine si è conclusa lo sprint. Sì, è stata una gara molto calda, abbastanza tirata, dopo vedevo che scolinavo sempre lì nel gruppo davanti, allora l'ultima abbiamo iniziato subito forte, ho deciso di fare un po' di forcing alla fine, si erano rimasti in due, però in discesa ci hanno ripreso e niente, dopo ho avuto Eduardo Caresia e Sandri Oscar che mi hanno tirato la volata da fine discesa diciamo e li ringrazio che siamo riusciti ad ottenere una vittoria insieme. Vittoria di squadra, oggi si correva quella che era considerata la rivincita del campionato italiano, a vincere ancora la Forti e Veloci non si può parlare di rivincita con Caresia? Ma no, rivincita no, però comunque dopo che all'italiano sono caduti i primi dieci chilometri ho rotto il cambio e in cima all'ultima salita che potevo giocarmi comunque un podio perché Caresia era imprendibile secondo me e diciamo che ce l'ho rimasto male, oggi comunque ci devo far bene, come hai detto, tra virgolette una rivincita e ce l'ho fatta. Questa volatoglia a chi la dedichiamo e quali sono i tuoi prossimi obiettivi? La dedichiamo alla mamma che non c'è qui, alla squadra e a Claudio Caldonazzi e i prossimi obiettivi sicuramente sarà fare una bella esperienza giù in Slovenia con la nazionale che partiremo venerdì e dopo soprattutto voglio far bene Diddi che è una corsa che ci tengo e anche una Coppa d'Oro non serve male.